direttamente dalla storica sala dei monopoli di stato di piazza mastai in roma questa è l'estrazione di si vince tutto super enalotto buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'estrazione di si vince tutto il concorso speciale di super enalotto come sempre si vince tutto super enalotto ha un suo monte premi distinto da quello di super enalotto che viene interamente distribuito in un'unica serata quella di estrazione fra tutti i vincitori per partecipare si scelgono dodici numeri e se ne devono indovinare sei ma si vince indovinando anche solo due numeri della combinazione estratta ad oggi si vince tutto ha già distribuito oltre 103 milioni 400 mila euro e solo nell'ultimo concorso sono stati assegnati oltre 150 mila euro scopriamo insieme quale cifra ha raggiunto il monte premi oggi mercoledì 17 gennaio 154 mila 764 euro le operazioni di estrazione sono già iniziate le 90 sfere numerate per la sestina vincente sono state caricate e con l'autorizzazione della commissione di controllo diamo re via all'estrazione di si vince tutto super enalotto le sfere sono scese nell'urna elettronica inizia il loro mescolamento automatico andiamo subito a scoprire il primo numero della sestina di si vince tutto super enalotto di oggi il primo numero estratto è il numero 55 il secondo numero sta arrivando di qui in poi si comincia già a vincere il secondo numero estratto è il numero 76 e ora siamo al terzo numero eccolo il terzo numero estratto è il numero 71 e via con il quarto quarto numero estratto è il numero 67 è giunto il momento del quinto numero il penultimo il quinto numero estratto è il numero 42 con l'ultimo numero la sestina vincente di questa estrazione speciale sarà completa ed il sesto numero estratto è il numero 31 controlliamo insieme la sestina vincente in ordine di estrazione 55 76 71 67 42 31 controllate bene la vostra ricevuta di gioco perché si vince tutto super enalotto questa sera distribuisce l'intero monte premi che vale ben 154 764 euro ricontrolliamo tutti i numeri estratti di si vince tutto super enalotto con la sestina vincente in ordine crescente 31 42 55 67 71 76 l'estrazione di si vince tutto super enalotto di oggi mercoledì 17 17 gennaio è terminata fra pochi minuti scopriremo insieme come verrà distribuito l'intero monte premi a fra poco con si vince tutto super enalotto ben ritrovati poco fa abbiamo seguito l'estrazione dei numeri vincenti di si vince tutto super enalotto di oggi mercoledì 17 gennaio che vi ricordo ha messo in palio oltre 150 mila euro il computer ci comunica che sono state assegnate 7.782 vincite per un valore di 154.699 euro il 6 non è stato ricentrato ma sono stati premiati migliaia di vincitori nessun 6 i 5 sono 4 e vincono 1315 euro ciascuno i 4 sono 93 e vincono 136 euro ciascuno i 3 sono 1106 e vincono 51 euro ciascuno e i 2 sono 6579 e vincono 12 euro ciascuno vi ringrazio per essere stati con noi si vince tutto super enalotto vi dà appuntamento a mercoledì prossimo 24 gennaio arrivederci